Silvio Colella, dopo l'esperienza dello scorso metà campionato, ho tornato a Bitonto desideroso di vestire nuovamente anche quest'anno i colori nero-verdi. Sì, sono molto felice di essere tornato, era il mio unico desiderio e con De Luca non vedo l'ora di cominciare questo campionato e di fare bene. A proposito di Mr. De Luca, ti sta provando nel ruolo di terzino alternandoti a Von, Canutè e varie soluzioni in ritiro. Come stai crescendo da un punto di vista tattico e anche fisico? Sì, stiamo crescendo tutti, mi sta provando terzino destro e pian piano stiamo capendo i suoi meccanismi. Lo scorso campionato era la tua prima volta tra i grandi, ora hai già qualche mese di bagaglio, di esperienza. Cosa ti aspetti da un punto di vista personale da questa seconda stagione tra i grandi? Personalmente il mio obiettivo è quello di migliorare in fase offensiva, magari facendo qualche assist, incidendo di più per la squadra. Per quanto riguarda la fase difensiva c'è da migliorare anche lì. Il feeling con il resto della squadra e anche con il gruppo under, potremmo dire che ormai sei uno dei veterani tra gli under, vista la tua esperienza lo scorso anno. Sì, il nostro gruppo è eccezionale, siamo tutti fratelli, è un bellissimo gruppo e andiamo tutti d'accordo.